Adriatico o Tirreno, poco importa, le due coste sono infatti irraggiungibili anche con i mezzi pubblici grazie a Marebus, che da quest'anno allarga il servizio di collegamento dall'entroterra al mare anche alla riviera Romagnola. Un nuovo servizio bassa, dunque, per collegare ogni giorno Arezzo, Rimini e Riccione, nato dalla collaborazione tra Autolinea Toscane e TM, che proseguirà per tutta l'estate sino a metà di settembre. È un servizio pensato per migliorare l'accessibilità a una delle mete turistiche più amate. Sempre in vigore, nello stesso periodo, anche il servizio di collegamento con la Maremma per raggiungere con i mezzi pubblici le più belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Pollonica, Marina di Grosseto e Principina Mare. Lungo il percorso sono previste anche alcune fermate strategiche per consentire l'imbarco di passeggeri non residenti ad Arezzo, ma che abitano in altre aree urbane. Per informazioni e acquisto biglietti è possibile consultare il sito TM nella sezione Linee Mare. Per ulteriori informazioni, invece, è possibile rivolgersi al servizio Infomobilità e chiamando il numero 800 100 403 da telefono fisso oppure il numero 199 122 344 da cellulare.